eccole qua prima stavano in questo di prima di nido e adesso è andato pure pure quello che stava in questo di prima andati a quello nuovo in quello nuovo appena fatto nel tempo di asciugarsi la vernice se no si imbrattavano pure le zampe verdi dice questo è più sicuro è fermo tipo cementato più alto un po più distante un po più riparato pure dal sottotetto del balcone invece questo penso così c'era una sceflera che che poi a mezza morta e sono rimaste le bacchette che sorreggono il nido però non ha la stabilità certo di questo al soffitto che gli ho fatto come nell'altro balcone adesso vediamo se mi avvicino un po questi vedono vedono che mi avvicino tranquilla capirei oggi stavano a un metro e volevano salire con me fuori non aspettavano neanche la fine dei lavori vabbè la lasciamo che sta